Ti conosco da molto tempo e conosco tua madre e tuo padre e so senza alcun ombra di dubbio che non sei stata tu a staccare quel cuore artificiale. Meredith, ho bisogno che tu mi dica chi è stato. Ci ho pensato e ripensato mille volte cercando di mettere tutti i pezzi insieme. È stato lei, lei è stata la causa della separazione dei miei genitori. Non era soltanto un'avventura, mia madre l'amava davvero. Non era una relazione squallida in cui si evita di dire che si è sposati. Non c'erano squalli di bugie. Si separò da suo marito per lei. Invece lei rimase con sua moglie perché quella era la cosa giusta da fare. Preterì la sicurezza perché sua moglie era la donna più adatta a stare insieme a lei. E diciamolo, mia madre, tutta l'opposto della sicurezza. Non preferì un uomo perché era quello giusto e la sua scelta ha compromesso tutta la sua vita. Invece lei prese la sua decisione e non ha mai avuto l'impianti. Veo.